buongiorno carissimo giuseppe albergo innanzitutto un abbraccio e un grande saluto poi ti volevo fare un piccolo diciamo riassunto del momento delle due coppie che mi hai venduto praticamente sono risultate tre femmine ed un maschio però abbiamo risolto tutto con padre rocco adesso ti faccio vedere le coppie in diciamo che hanno iniziato la copa vado col video allora prima coppia femmina giallintensa giuseppe albergo e maschio avorio brinato padre rocco 5 uova ha iniziato la cova l'altro ieri seconda coppia femmina gialla brinata e maschio giallintenso giuseppe albergo questa è proprio la tua 5 uova ha iniziato a covare ieri giorno dopo terza coppia femmina questa qui è rosetta di padre rocco e il maschio è di un allevatore di guidonia mario ha iniziato a fare le uova ne ha fatte due e adesso a mano a mano le sostituisca andiamo avanti questo è il maschio di un padre rocco che doveva copiarlo e l'intenso per la femmina brinata ma non l'ha accettato non c'è stato niente da fare ok io ti ringrazio mi hai dato dei canarini meravigliosi è dir poco e di consegno anche perché sto iniziando adesso stanno facendo tutto da soli certo io non gli faccio mancare niente questo è normale ci mancherebbe però fanno tutto da soli e stupendi più di questo non posso dirti ci sentiamo un abbraccio grazie 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 grazie